Ciao a tutti amici di TecnoAndroid, Motorola One Vision è il nuovo terminale presentato da Motorola arriverà in Italia a partire dal prossimo 3 giugno 2019 naturalmente in due colorazioni super interessanti ad un prezzo molto competitivo, porta con sé numerose novità a partire dal design il design è questo che vedete qui, è una super anteprima, quella che vi stiamo proponendo oggi è un terminale con display in 21 noni, il secondo presentato sul mercato di questo tipo è un terminale con un design completamente diverso, anche i colori rispetto ai colori classici di Motorola risultano essere diversi ci sono due colorazioni disponibili, la bronze che è questa qui, colorazione leggermente marroncina che poi nemmeno si nota troppo e la sapphire blue un po' più classica per quanto concerne il resto delle specifiche troviamo un processore per la prima volta per quanto concerne Motorola è un processore di Samsung, un Exynos, un octa-core da 2.2 GHz abbiamo la ricarica veloce da 15 Watt in grado di garantire anche in questo caso un giorno più o meno di autonomia memoria ultraveloce da 128 GB, 4 GB di memoria RAM, UFS, la memoria, campo posteriore doppia da 48 più 5 megapixel per quanto concerne il sensore di profondità abbiamo fatto qualche scatto e soprattutto siccome c'è una modalità, c'è la Quad Pixel Technology ha fatto delle fotografie sensazionali cerchiamo di farvene vedere qualcuno ha anche la modalità, andiamo magari verso un po' più di ombra ha anche la modalità, diciamo, di intelligenza artificiale ecco qualche scatto fatto con la fotocamera vi posso assicurare che è messa anche a paragone con altre fotocamere ad esempio qualche collega aveva il Pixel 2 e il Pixel 3 la differenza non è così tanta, anzi veramente gli scatti sono ottimi, ottimi, ottimi quindi fotocamera che finalmente su un Motorola fa delle foto eccezionali basti pensare, questa è la fotocamera normale questa è con l'intelligenza artificiale quindi veramente un abisso e vi posso assicurare vi è anche con gli altri dispositivi stessa cosa, dicasi, per la fotocamera anteriore che anche in questo caso ha una modalità Quad Pixel come potete vedere ha una modalità Quad Pixel e quindi di conseguenza in notturna si vede davvero davvero molto molto bene ha poi una modalità proprio notturna apposita eccoci qui anzi questa è la Google Lens questa è la modalità notturna che prende ancora più luce e modifica in post-produzione la fotocamera e poi, beh, che altro dire semplicemente che è un dispositivo che per il momento mi ha stupito tantissimo perché si tiene benissimo in mano a un prezzo, e questo è il punto di forza probabilmente insieme poi alla normale Android One gli aggiornamenti super veloci le prestazioni e quant'altro che hanno sempre contraddistinto i dispositivi Motorola ha un prezzo super competitivo 299 euro sarà venduto solo tramite i canali Amazon a partire dalla prossima settimana il 3 giugno per l'appunto beh, ci vorrà qualche giorno ci vorrà la recensione è una recensione che sarà molto particolare perché la faremo a bordo di una supercar scopriamo poi insieme prossimamente il tutto ciao a tutti da Milano, da Gianluca alla prossima